Lo scopo di questo video è spiegare come funziona Bitcoin nel dettaglio, per chiarire cosa significhi realmente possedere, inviare o minare Bitcoins. Facciamo prima una breve panoramica su cosa è il Bitcoin. Al suo interno Bitcoin è solo una lista di account e importi, come un registro. Una copia di questo file è presente su ogni computer della rete Bitcoin. Questi numeri non rappresentano qualcosa nel mondo reale. Hanno solo valore perché le persone sono disposte a scambiare beni e servizi per avere un numero più alto nel proprio conto, convinti che gli altri facciano lo stesso. I numeri hanno valore solo perché crediamo che abbiano un valore, proprio come qualsiasi altra moneta legale. Per inviare denaro si trasmette alla rete che l'importo sul proprio conto deve diminuire ed aumentare della stessa quantità sul conto del destinatario. I nodi della rete Bitcoin applicano tale operazione alla loro copia del registro e poi passano la transazione agli altri nodi. Questo, con una sicurezza di base matematica, è davvero tutto. Un sistema che consente a un gruppo di computer di mantenere un registro di transazioni. Anche se questo può sembrare simile al modo in cui una banca mantiene un registro, il fatto che il registro è mantenuto da un gruppo piuttosto che da una singola entità introduce una serie di importanti differenze. Per prima, a differenza di una banca in cui si conosce solo le proprie transazioni, nella rete Bitcoin tutti conoscono le transazioni di tutti. Inoltre, mentre ci si può fidare della propria banca, o comunque si può denunciare se qualcosa va storto, nella rete Bitcoin si tratta con sconosciuti anonimi, quindi non ci si dovrebbe fidare di nessuno. Il sistema Bitcoin è progettato in modo che non sia necessaria alcuna fiducia. Funzioni matematiche speciali proteggono ogni aspetto del sistema. Il resto di questo video vi spiegherà come la rete Bitcoin permetta ad un tale gruppo di estranei di gestire tra di loro le transazioni. Di base, per inviare denaro da Alice a Bob, lei trasmette un messaggio con il conto e l'importo inviato. 5 Bitcoin da Alice a Bob. Ogni nodo che lo riceve aggiorna la propria copia del registro, per poi passare il messaggio alla rete. Ma i nodi come fanno ad essere sicuri che la richiesta sia vera? Che solo il legittimo proprietario abbia inviato il messaggio? Le regole Bitcoin richiedono una password per sbloccare i fondi non spesi, e questa password viene chiamata firma digitale. Come una vera e propria firma autografa, dimostra l'autenticità di un messaggio, ma lo fa attraverso un algoritmo matematico che impedisce la copia o la contraffazione nel mondo digitale. A differenza di una semplice password statica, è richiesta una firma digitale diversa per ogni transazione. Ricordatevi che nella rete Bitcoin si ha a che fare con degli sconosciuti, quindi non si vuole mai rivelare una password che può essere copiata o riutilizzata da qualcun altro. Una firma digitale funziona utilizzando due chiavi diverse, ma collegate. Una chiave privata per creare una firma e una chiave pubblica che gli altri usano per verificarla. Si può pensare alla chiave privata come una vera password e alla firma come un intermediario che dimostra di avere la password senza doverla rivelare. Le chiavi pubbliche sono in realtà l'indirizzo di destinazione nella rete Bitcoin. Quando si invia del denaro lo si sta inviando alla chiave pubblica. Per spendere soldi bisogna dimostrare di essere il proprietario di quella chiave pubblica. E si fa generando una firma digitale da un messaggio di transazione con la chiave privata. Gli altri nodi della rete possono utilizzare quella firma in un'altra funzione per verificare che corrisponda con la chiave pubblica. Attraverso la matematica che sta dietro alla firma digitale si può verificare che il mittente possegga la chiave privata senza però vedere la chiave privata. Inoltre, dato che la firma dipende dal messaggio, sarà diversa per ogni transazione e quindi non potrà essere riutilizzata per una transazione diversa. Questa dipendenza dal messaggio significa anche che nessuno può modificare il messaggio mentre passa nella rete. Qualsiasi eventuale modifica il messaggio invaliderebbe la firma. La matematica che ci sta dietro è abbastanza complessa e non la spiegherò tutta ora. Qui ci sono alcuni argomenti che si può cercare per iniziare. Altri dettagli alla fine del video. Finora sappiamo che le firme digitali garantiscono che una transazione è autorizzata. Ma ho semplificato molto come i nodi della rete tengono traccia dei saldi dei conti. Infatti non viene salvato nessun saldo dei conti. Se non tieni traccia di quanti soldi ogni persona ha, come si fa a sapere se hanno abbastanza soldi da inviare a qualcun altro? Al posto dei saldi la proprietà dei fondi è verificata attraverso collegamenti alle transazioni precedenti. Ecco come funziona. Per inviare 5 bitcoin a Bob, Alice deve fare riferimento ad altre transazioni dove ha ricevuto 5 o più bitcoin. Queste operazioni di riferimento sono chiamate input. Gli altri nodi che verificheranno questa transazione controlleranno quegli input per assicurarsi che Alice fosse il vero destinatario e anche che gli input fossero 5 più bitcoin. Guardiamo una transazione reale per vederlo in pratica. Questa transazione fa riferimento a 6 input per un totale di 139,6 bitcoin. Sotto, nella sezione output, notate due linee. La prima in realtà sta tornando indietro al mittente come il resto per la transazione. Una regola stabilisce che ogni input deve essere utilizzato completamente in ogni transazione. Quindi, se si sta cercando di inviare un importo che non corrisponde a uno degli input, è necessario inviare l'importo residuo a se stessi. Attraverso questi riferimenti agli input, la proprietà dei bitcoin è passata lungo una sorta di catena, dove la validità di ogni transazione dipende dalle transazioni precedenti. Ma come ci si può affidare delle transazioni precedenti? Non si può, e si dovrebbe controllare anche i loro ingressi. Infatti, quando si installa il portafoglio bitcoin, questo scarica ogni transazione è fatta, e controlla ritroso la validità di tutte fino alla primissima. Ricordate, si ha a che fare con sconosciuti, quindi è importante verificare da soli ogni transazione. Questo processo può richiedere più di 24 ore, ma va fatto solo la prima volta. Quando una transazione è stata usata una volta, è considerata spesa, e non può essere riutilizzata, altrimenti qualcuno potrebbe spendere due volte un input, facendo un riferimento in più transazioni. Nel verificare una transazione, in aggiunta agli altri controlli, i nodi si assicurano che anche gli input non siano stati già spesi. Nel dettaglio, per ogni ingresso, i nodi controllano ogni altra transazione fatta, per assicurarsi che l'input non sia mai stato usato prima. Mentre questo può sembrare molto lungo, dato che ad oggi ci sono oltre 20 milioni di transazioni, il processo è velocizzato da un indice con queste transazioni. Così, invece di un registro dei saldi, i nodi bitcoin tengono traccia di una lista gigante di transazioni. Possedere bitcoin vuol dire che ci sono transazioni in questo elenco che puntano al proprio nome e non sono stati spesi, o, in altre parole, che non sono stati utilizzati come input in altre operazioni. Un'interessante conseguenza di questa struttura è che per capire il proprio saldo occorre scorrere ogni transazione dall'inizio e sommare tutti gli input non spesi. Un'altra nota interessante delle transazioni è che il sistema è in grado di supportare operazioni più complesse che inviare fondi a una sola persona. Avrete notato una strana linea di testo nell'output mostrato precedentemente. Infatti gli output sono come enigme da risolvere, invece che semplici indirizzi di destinazione. Al contrario di una mail, l'invio di bitcoin è più come mettere i soldi in un armadietto pubblico con un enigma matematico che deve essere risolto per aprirlo. L'enigma è creato utilizzando un linguaggio speciale di scripting e, mentre è progettato per poter essere risolto solo dal proprietario dell'altra chiave pubblica, esistono condizioni più complesse. Ad esempio potrebbero servire due su tre firme per una transazione basata su escrow. Un altro esempio è la primissima transazione bitcoin fatta, che era un enigma che chiunque poteva risolvere. I software bitcoin non visualizzano gli script interni per semplificare, ma chiunque può scrivere il proprio software, anche se questo può essere rischioso. Oltre 2600 bitcoin furono persi in un blocco di transazioni a causa di un indirizzo sbagliato. Questo evidenzia una parte importante di bitcoin, in quanto non c'è nessuna banca o carta di credito a cui si può fare appello per eventuali errori. Lo sbaglio di un utente può causare la perdita di bitcoin, e non solo dal proprio account, ma dall'intera economia bitcoin. Se si perde la chiave privata, i fondi associati con la chiave pubblica corrispondente saranno persi per sempre. Dato che statisticamente la gente perderà le chiavi private a caso di problemi all'hard disk o nessun backup, questo significa che la moneta bitcoin alla fine sarà in deflazione. Prima di spiegare cosa rende sicuri bitcoin, i minatori, voglio sottolineare alcuni punti sull'anonimato dei bitcoin. Se si accede a bitcoin attraverso una rete Tor che nasconde il vostro indirizzo IP, è possibile utilizzare bitcoin rivelando solo la chiave pubblica. E per evitare che qualcuno possa ricollegare le vostre transazioni, ricordate che sono tutte pubblicamente memorizzate su ogni singolo computer, è possibile generare una nuova chiave pubblica per ogni transazione. È possibile comunque collegare inavvertitamente chiavi pubbliche insieme. Nella transazione mostrata in precedenza, sei operazioni sono state utilizzate come sorgenti, e nonostante tutti gli input fossero stati inviati a indirizzi diversi, tutti sono collegati a quella transazione. Il mittente ha dimostrato che possedeva tutti quegli indirizzi fornendo la firma digitale per sbloccarli tutti quanti. I ricercatori hanno infatti utilizzato questi collegamenti per studiare il comportamento di bitcoin. Si potrebbe pensare che generare una chiave pubblica possa potenzialmente creare un link alla propria identità. Ma anche questo passaggio è anonimo e, sorprendentemente, può essere fatto senza connessione alla rete. È sufficiente fare clic su un pulsante nel vostro portafoglio per generare in modo casuale una nuova chiave privata e pubblica. Dato che ci sono tanti indirizzi diversi possibili, non c'è alcun motivo per controllare se qualcun altro ha già quella chiave. Si può paragonare a creare un nuovo indirizzo di posta elettronica aggiungendo ogni volta un carattere diverso. Infatti, se indovinaste la chiave privata di un altro, avreste accesso a tutto il loro denaro. Questo è il numero totale di indirizzi bitcoin possibili. Questo numero gigante protegge la rete bitcoin in diversi modi. Quindi è utile capire quanto è grande. La stima del numero di granelli di sabbia in tutto il mondo è circa 7.5 milioni di trilioni. Ora immaginate che ogni granello di sabbia rappresenti un'altra terra. Il numero totale di granelli di sabbia serve ancora molto inferiore rispetto al numero possibile di indirizzi bitcoin. Ricapitoliamo la sicurezza dei bitcoin finora. Verificando la firma digitale sappiamo che solo il vero proprietario può aver creato il messaggio di transazione. E per assicurarsi che il mittente abbia abbastanza soldi da spendere controlliamo anche ogni transazione di input di riferimento assicurandosi che non siano già spese. Ma c'è ancora una grande falla di sicurezza in questo sistema che può rendere questo controllo di transazioni non spese inaffidabile. E questo ha a che fare con l'ordine delle transazioni. Considerando che le transazioni passano nodo per nodo attraverso la rete, non c'è alcuna garanzia che l'ordine con cui si ricevono rappresenti il reale ordine con cui sono state create. E non ci si può fidare del timestamp perché è semplice da falsificare la data in cui una transazione è stata creata. Quindi non c'è modo di sapere se una transazione è avvenuta prima di un'altra. E questo crea il rischio di falsificazione. Un utente malintenzionato, Alice, potrebbe inviare una transazione a Bob, aspettare che Bob spedisca un prodotto e poi inviare un'altra transazione facendo riferire lo stesso input a se stessa. A causa delle differenze nei tempi di propagazione alcuni nodi della rete potrebbero ricevere la seconda transazione duplicata prima di quella di Bob e quando arriva la transazione di Bob viene scartata perché sta cercando di riutilizzare un input. Quindi Bob avrebbe perso sia il prodotto che i soldi. Nella rete comunque ci sarebbe un dissenso sul fatto se Bob o Alice posseggano il denaro perché non c'è modo di dimostrare quale operazione è avvenuta prima. Alla luce di questo ci deve essere un modo per l'intera rete per concordare sull'ordine delle transazioni che è una sfida difficile in un sistema decentrato. La rete bitcoin adotta una soluzione che è un modo intelligente per determinare e salvaguardare l'ordine attraverso una sorta di gara matematica. La rete bitcoin ordina le transazioni inserendole in gruppi chiamati blocchi e collega i blocchi insieme in una catena chiamata blockchain. Notare che questo è diverso dalla catena di transazioni che abbiamo discusso in precedenza. La blockchain viene utilizzata per ordinare le transazioni mentre la catena di transazioni tiene traccia di come cambia la proprietà. Ogni blocco ha un riferimento al blocco precedente e questo serve a dargli un ordine nel tempo. È possibile percorrere riferimenti a ritroso fino al primo gruppo di transazioni mai fatto. Le transazioni nello stesso blocco sono considerate come accadute nello stesso momento e le transazioni non ancora in un blocco sono chiamate non confermate o non ordinate. Ogni nodo può raccogliere un insieme di transazioni non confermate in un blocco e trasmettere al resto della rete un suggerimento su quale dovrebbe essere il blocco successivo. Dato che più persone possono creare blocchi nello stesso momento ci potrebbero essere diverse opzioni tra cui scegliere. Come fa la rete quindi a scegliere quale dovrebbe essere il successivo? Non possiamo basarci sull'ordine con cui i blocchi arrivano come spiegato con le transazioni prima. Possono infatti arrivare con diversi ordini in diversi punti della rete. Una parte della soluzione bitcoin è che ogni blocco deve contenere una risposta a un problema matematico molto particolare. I computer passano l'intero testo di un blocco più un numero casuale attraverso qualcosa chiamato un hash crittografico fino a quando il risultato non è inferiore a un certo valore. Una funzione hash crea un numero breve a partire da un testo di lunghezza arbitraria. Nel nostro caso il risultato è un numero di 32 byte. Ecco alcuni esempi della funzione hash che bitcoin utilizza. SH256. Notare come cambia l'output aggiungendo un solo punto alla fine della frase. L'uscita è completamente imprevedibile. Quindi l'unico modo per trovare un particolare valore di output è di fare prove casuali. È molto simile a indovinare la combinazione di un lucchetto. Si può avere fortuna a indovinarla alla prima ma in media ci vogliono molti tentativi. Infatti in bitcoin con un computer medio ci vorrebbero diversi anni per indovinare e risolvere un blocco. Con tutti i computer della rete ci vogliono in media 10 minuti perché qualcuno trovi la soluzione. La prima persona che risolve il problema trasmette il blocco e il suo gruppo di transazioni viene accettato come il prossimo nella catena. La casualità del problema matematico distribuisce in modo efficace il tempo per trovare una soluzione, il che rende improbabile che due persone trovino contemporaneamente la soluzione. Occasionalmente però più di un blocco può essere risolto allo stesso tempo, portando a diversi rami possibili. In questo caso si continua dal blocco ricevuto per primo. Altri nodi possono aver ricevuto i blocchi in un ordine diverso e continueranno basandosi sul blocco ricevuto per primo. L'inconcluenza si risolve quando qualcuno risolve il blocco successivo. La regola dice che bisogna accettare il ramo più lungo disponibile. La matematica rende improbabile che i blocchi si risolvano contemporaneamente. È anche più raro che questo accada più volte di fila. Il risultato finale è che la blockchain si stabilizza rapidamente, quindi tutti sono d'accordo sull'ordine degli ultimi blocchi. Il fatto che ci possa essere ambiguità sulla fine della catena ha importanti implicazioni per la sicurezza delle transazioni. Ad esempio, se la vostra transazione si trova in uno dei rami più brevi, perderà il suo posto nella linea all'interno della blockchain. In genere, questo significa solo che tornerà tra le transazioni non confermate in attesa di essere inclusa nel blocco successivo. Purtroppo, questa possibilità per le transazioni di perdere il proprio posto apre la porta agli attacchi di doppia spesa, che era il motivo iniziale per un sistema di ordinamento. Vediamo come un attacco di doppia spesa avrebbe funzionato nel sistema descritto prima. Un truffatore, Alice, invia denaro a Bob. Bob quindi attende che la transazione sia confermata nella blockchain e poi le spredisce un prodotto. Ora, dato che i nodi scelgono sempre il ramo più lungo, se Alice riesce a generare un ramo più lungo che cambia la transazione a Bob verso invece a se stessa, il suo denaro non arriverà mai a Bob. La transazione di Bob verrà inizialmente messa tra quelle non confermate, ma dato che Alice l'ha sostituita con un'altra transazione che utilizza il suo stesso input, i nodi ora considereranno la transazione di Bob non valida, perché fa riferimento a un input già speso. Quindi, come fa il sistema di ordinamento ad impedire ad Alice di truffare Bob? Si potrebbe pensare che Alice possa pre-calcolare una blockchain da inviare sulla rete proprio al momento giusto, ma le funzioni matematiche di ogni blocco in realtà lo impediscono. Dobbiamo guardare un po' più in profondità l'hash criptografico spiegato in precedenza per capire perché. Come accennato prima, per trovare la soluzione di un blocco bisogna trovare un hash che sia sotto un certo valore, e questo si fa provando diversi numeri casuali alla fine del blocco. Una volta risolto, l'hash di output è come un'impronta digitale che identifica univocamente quel blocco. Se anche un solo carattere nel blocco venisse modificato, l'hash del blocco cambierebbe completamente, proprio come abbiamo visto prima, quando è stato aggiunto un punto alla fine della frase. L'hash di output o impronta digitale è in realtà ciò che viene usato come riferimento al blocco precedente. Il risultato è che non c'è alcun modo per cambiare un blocco nel mezzo della catena perché il valore hash del nuovo blocco sarebbe diverso e anche il riferimento non punterebbe più a lui. E inoltre, ma ancora più importante, un blocco non può essere risolto prima che il blocco precedente sia risolto. Il riferimento al blocco precedente è parte del testo che passa attraverso la funzione di hash, quindi qualsiasi modifica richiederebbe un nuovo calcolo. Tornando ad Alice, questo è il motivo per cui lei non può pre-calcolare un ramo, ma può iniziare solo a risolvere i blocchi appena il blocco sul quale vuole lavorare è completato e il suo valore di hash è noto. Inizia quindi una specie di gara contro il resto della rete fino a quando Bob spedisce il prodotto, che è il momento in cui lei vuole presentare un ramo più lungo. Un'altra domanda è se Alice potrebbe essere in grado di superare tutti se avesse un pc estremamente veloce o anche una stanza piena di pc. Ma anche con migliaia di computer è improbabile che vinca la gara perché lei non gareggia contro una singola persona, ma bensì contro l'intera rete. Si può pensare a questo come una lotteria. Lei può avere migliaia di computer o, allo stesso modo, comprare migliaia di biglietti della lotteria, ma anche allora è molto più probabile che qualcun altro vinca. Avrebbe bisogno di controllare metà della potenza di calcolo totale di tutta la rete per avere una probabilità del 50% di risolvere un blocco prima di qualcun altro e molto di più per avere un'elevata probabilità di vincere diversi blocchi consecutivi. Quindi le transazioni nella blockchain sono protette da una gara matematica che contrappone un malintenzionato contro il resto della rete. Una conseguenza dei blocchi costruiti basandosi sui precedenti è che le transazioni più vecchie nella catena sono più sicure. Un utente malintenzionato dovrebbe superare la rete per un periodo di tempo più lungo per effettuare un attacco di doppia spesa e sostituire un blocco più indietro nella catena. Quindi il sistema è vulnerabile solo ad un attacco di doppia spesa vicino alla fine della catena ed è per questo che si consiglia di attendere alcuni blocchi prima di considerare il denaro ricevuto. Un ultimo commento sulla blockchain prima di spiegare i pezzi finali del sistema bitcoin. Sorprendentemente nulla di quanto descritto finora richiede fiducia. Quando si ricevono informazioni da sconosciuti nella rete bitcoin è possibile controllare da sé che le soluzioni di blocco siano corrette e poiché i problemi di matematica sono così difficili non c'è nessun modo per cui un malintenzionato avrebbe potuto generarla da solo. Le soluzioni sono la prova di quanta potenza di calcolo dell'intera rete è stata esercitata. Ora che abbiamo discusso di come il denaro viene trasferito attraverso firme digitali e catene di transazione e come l'ordine di tali operazioni è protetto nella blockchain, arriviamo alla parte finale, da dove provengono i bitcoin. Per inviare denaro è necessario fare riferimento a una precedente operazione in cui si era il destinatario. Ma da dove arrivano queste monete? Per generare e distribuire lentamente e in modo casuale le monete viene attribuito un premio a chi risolve un blocco. Questo è il motivo per cui risolvere blocchi è chiamato minare anche se il suo vero scopo è quello di verificare le transazioni e salvaguardare la blockchain. Ogni quattro anni il premio viene dimezzato in modo che alla fine non saranno rilasciate più monete. Verranno create in totale circa 21 milioni di monete. Considerate che è possibile inviare fino a un centomilionesimo di bitcoin, così il numero totale a disposizione probabilmente non limiterà l'utilizzo della moneta. Una volta che la ricompensa del blocco termina, quale incentivo avranno i minatori per elaborare le transazioni? Oltre ai premi, i minatori ottengono anche le commissioni di transazione facoltative, che sono incluse con le transazioni. Per ora i minatori includono anche le operazioni senza commissioni nei blocchi, perché il loro incentivo principale è la ricompensa del blocco. Ma in futuro le transazioni saranno probabilmente elaborate in base alle commissioni pagate e saranno probabilmente ignorate quelle senza commissioni. L'invio di denaro in bitcoin probabilmente non sarà gratis, ma si spera che rimanga sempre più conveniente rispetto alle attuali commissioni con carta di credito. Come accennato prima, in media, ci vorrebbero diversi anni per risolvere un blocco con un pitch in medio, quindi la possibilità che una persona risolva il blocco prima del resto della rete, che in genere ci impiega 10 minuti, è molto bassa. Per aumentare questa possibilità molte persone si uniscono in gruppi chiamati gruppi di minatori, che lavorano insieme per risolvere i blocchi e distribuiscono i premi in base a quanto hanno contribuito. Questi si comportano un po' come sistemi di gioco tra amici, ma alcuni di questi gruppi sono abbastanza grandi e comprendono più del 20% di tutti i computer della rete. Il fatto che alcuni di questi gruppi siano così grandi ha alcune importanti implicazioni sulla sicurezza. Come accennato prima, è molto improbabile per un utente malintenzionato risolvere diversi blocchi in fila prima del resto della rete, ma è possibile e la probabilità aumenta con l'aumentare del potere di calcolo rispetto al resto della rete. In effetti, uno di questi gruppi di minatori, btcguild.com, ha risolto 6 blocchi di fila e ha volontariamente limitato i suoi membri a favore dell'intera rete bitcoin. Anche con una notevole potenza di calcolo, più indietro si va nella blockchain, più è difficile cambiarla per un malintenzionato. Il consiglio per ora è di aspettare che la transazione sia almeno in un blocco, cioè che ottenga almeno una conferma, prima di considerarla ricevuta. E per operazioni più importanti, attendere almeno 6 conferme. Alla luce della capacità di btcguild di risolvere 6 blocchi in fila, si potrebbe voler aspettare ancora di più. Di regola, ogni blocco richiede circa 10 minuti per essere risolto, quindi l'attesa di 6 blocchi richiederebbe circa un'ora. Rispetto ai diversi secondi di una transazione con carta di credito, questa lunga attesa per la conferma può sembrare spropositata, ma ricordate che i clienti con carta di credito possono richiedere un rimborso anche mesi dopo aver effettuato l'acquisto. Quindi bitcoin è in realtà molto più veloce agli occhi del negoziante. La particolare scelta di 10 minuti per blocco è stata un po' casuale, ma una scelta più breve potrebbe portare a instabilità, mentre una più lunga potrebbe ritardare le conferme. Mentre più computer si uniscono alla rete e viene progettato hardware specializzato per minare, il tempo per risolvere un blocco diventerebbe molto piccolo. Per compensare, ogni due settimane tutto il software bitcoin ricalibra la difficoltà del problema matematico per allinearsi a 10 minuti. Una moneta digitale simile, chiamata Litecoin, è stata creata per operare con un tempo di 2 minuti e mezzo per blocco. In sintesi, bitcoin è una moneta digitale protetta matematicamente e gestita da una rete di computer. Le firme digitali autorizzano le singole operazioni, la proprietà passa attraverso la catena di transazioni e l'ordine delle transazioni è protetta dalla blockchain. Richiedendo complessi problemi di matematica da risolvere in ogni blocco, potenziali aggressori devono combattere contro il resto della rete in una gara computazionale quasi impossibile da vincere. Bitcoin promette idee molto interessanti, come ad esempio l'esclusione dei governi, l'anonimato e le spese di transazione potenzialmente inferiore alle carte di credito. Ha anche molte sfide però, attualmente è difficile scambiare bitcoin per altre monete ed è stato nominato un paradiso per attività illegali ed evasione fiscale, così i governi potrebbero tentare di vietarli. Inoltre, la gara matematica richiede tantissima energia elettrica. Per visualizzare una versione scritta di questo video in lingua inglese si può andare sul blog personale dell'autore imponderablethings.com. Il blog contiene anche alcune spiegazioni aggiuntive sulla matematica che sta dietro alle firme digitali e agli hash crittografici che sono alla base del sistema bitcoin.